Buongiorno a Laura Fregolent, ordinaria di tecnica e pianificazione urbanistica e candidata al ruolo di rettrice della Università UAB di Venezia. La prima volta di una rettrice donna potrebbe essere questa, per cui una grande novità. Ho visto che anche nel programma che hai presentato si sottolineava questo aspetto in vari punti, l'aspetto del superamento delle differenze di genere e del fatto che dicevi che negli ultimi anni ci sono stati, dei cambiamenti anche all'interno del corpo docente, nelle dinamiche di immissione di nuovi docenti. Partiamo da questo. Qual è la reazione della scuola rispetto alle questioni di genere e rispetto alla tua candidatura? Intanto grazie Giovanni anche di questa chiacchierata, di questa opportunità anche di confronto che mi dai. Sì, sarebbe la prima volta e anche la prima volta che una donna si candida. Noi giustamente come dicevi non abbiamo grossissimi problemi di disparità di genere nella presenza sia all'interno della componente del personale docente che del personale tecnico amministrativo e quindi questo è sicuramente un punto importante che ci fa onore. Esistono delle differenze, esistono delle differenze rispetto a quelle che sono poi le differenze stipendiali perché le donne poi continuano a svolgere, ma questo è un dato che riguarda la nostra società nel suo complesso, continuano a svolgere ruoli di cura che spesso le pongono nella condizione di dover scegliere, di dover scegliere se dedicarsi ulteriormente al lavoro o se invece prendersi cura dei propri cari, degli genitori anziani eccetera. Abbiamo visto le posizioni di chi sostiene che le donne devono accudire. Esatto, esatto. Allora questo continua ad essere, questo è un fattore culturale rispetto al quale credo che ci sia ancora un pochino da lavorare. Sicuramente lo sguardo all'interno del mio Ateneo è uno sguardo più positivo rispetto ad altri. Io credo rispetto al fatto della mia candidatura, insomma mi è stato molto chiesto e sollecitato, non mi pare in quanto donna ma in quanto persona che si è da molto tempo occupata di questa istituzione e che ha ricoperto dei ruoli come dire di gestione, di governo, no? Più che per l'essere una donna. Poi l'essere una donna è, passami l'espressione, un valore aggiunto. Mi sembra che ci sia una certa curiosità, una certa curiosità, una certa attenzione. Non nego che mi sono arrivati molti commenti, anche molte, come dire, molto interesse proprio anche rispetto al fatto di essere una donna e quindi di poter mettere in campo quella che io chiamo una sensibilità femminile, che non è necessariamente delle donne, non è detto che appartenga solo alle donne, ma diciamo che è una sensibilità femminile che ci è più consona. Rispetto a questo io ho trovato curiosità, ma mi sembra che sia una curiosità molto allargata, no? Se guardiamo a quello che sta succedendo anche nelle altre università e di qualche giorno fa l'elezione dell'elettrice di Firenze. Quindi mi sembra come dire che siamo in un momento storico nel quale forse vogliamo mettere alla prova e poi il femminile anche nei compiti di governo molto alto. Forse è anche vero che sono abbastanza le donne, come dicevi, che sono impegnate e a questo punto, al di là delle differenze di genere, scendono in campo tra le opzioni sempre più donne. Assolutamente sì. Al di là delle differenze di genere. Assolutamente sì. Siamo persone che hanno competenze, che hanno dimostrato anche sul campo di saper fare delle cose, che hanno dei curriculum adeguati e quindi poi sono anche delle donne e quindi forse possono mettere in campo anche questa sensibilità appunto alla quale io faccio riferimento. è diversa, anche se io continuo a pensare che sono determinanti entrambe, cioè la mascolinità della donna e la femminilità nell'uomo. Questo mix è la ricchezza che abbiamo tutti, insomma, che è bello mantenere viva. Assolutamente. Senza competizione e concorrenza. Assolutamente. Per questo mi piace vedere questo avanzare delle donne e lo vedo come un avanzare a tutto tondo e non come un riconoscimento di un diritto di genere, ecco. No, 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 no. Siamo d'accordo. Senti. Sono assolutamente d'accordo su questo. Entriamo nel merito dei programmi. Io ho visto il tuo programma, devo confessarti che in alcuni passaggi mi è sembrato un po' critico. Cioè ci sono alcuni aspetti che da un esterno, da chi non è più appunto interno alla facoltà, diventa difficile capire a cosa si riferiscono. Proprio prima guardavo il brano che diceva i progetti di riforma degli ordinamenti e degli assetti fin qui portati avanti all'Ateneo, bla bla bla, ma si intravedono alcune possibilità di intervento che vanno in particolare a specificare alcuni discorsi, cioè sembra quasi molto rivolto giustamente all'interno dell'istituzione, sia dell'istituzione per un verso accademica, di formazione superiore, eccetera, sia anche nei confronti dello UAB come azienda, non nel senso dell'eterio, no, non nel senso dell'eterio, ma nel senso di una struttura composta da personale docente, non docente, non nel senso di dipendenti, proprio nel senso delle diverse componenti che non sono soltanto quelle direttamente impegnate nella didattica e nella ricerca, ma anche quelle importanti impegnate nella fornitura di servizi. In questo senso, mi pareva che la tua attenzione fosse molto rivolta a tutte le componenti, cercando di ricomporre una strategia unitaria per tutte queste componenti. Allora, guarda, diverse questioni sollevi a partire da un'osservazione. Allora, la prima, sgombro il campo dagli equivoci. L'università è l'università e l'università non è un'azienda, assolutamente. Questo non sta nella nostra mission e io assolutamente non credo nella università come azienda. Il linguaggio, hai ragione, l'hai sottolineato, è un documento che ovviamente si rivolge a una comunità specifica, che è una comunità che si occupa di alcune questioni, l'esempio che facevi sulla didattica. Uno che non è dentro non capisce, mentre uno che sta lavorando su quei temi e poi anche col dibattito interno sa a cosa ti ripetisci. Guarda, la didattica e direi l'organizzazione dell'università è molto molto cambiata rispetto a quanto non fosse quando eravamo studenti noi, Giovanni, dove i percorsi erano molto diversi. E quindi il mio riferimento in quel caso era un riferimento al fatto che noi abbiamo fatto una serie di riforme nel corso di questi ultimi anni, proprio sulla didattica, di specificazione di alcuni corsi triennali, delle magistrali, e il mio interesse in quel campo è ci sono altri spazi dove noi possiamo aprire nuovi fronti di insegnamento. Mi riferisco in particolare alle lauree magistrali, ai percorsi magistrali. Allora questo ovviamente è un auspicio anche che io metto in campo, cioè della possibilità di offrire, di dare maggiore offerta formativa. Come ben sai, i nostri percorsi, i nostri corsi di studio hanno anche subito un arresto dal punto di vista degli iscritti, le facoltà di architettura, di ingegneria, di pianificazione, sono state i corsi di studio in questi ambiti, sono stati anche messi a dura prova fino a qualche anno fa. Adesso noi registriamo invece una ripresa dal punto di vista degli studenti, mentre magari gli altri corsi di studio che noi abbiamo, mi riferisco a design, mi riferisco a design della moda, mi riferisco a arti, a teatro, sono corsi che invece hanno, come dire, conquistato e hanno un numero, un numero di studenti molto, molto interessante, no? Cioè sono degli ambiti di grande attrazione, di grande attrattività per gli studenti. Ma anche i corsi, come dire, più tradizionali stanno, stanno molto meglio adesso, no? Cioè abbiamo, come dire, una ripresa e anche in virtù, io credo, delle, dei cambiamenti che sono stati apportati e delle riforme che sono state introdotte nel corso degli ultimi anni, no? Questo è il Dipartimento Unico, mi pareva che tu appunto sottolineassi i benefici che erano venuti e volevi rilanciare in qualche modo e consolidare, forse rettificare anche i percorsi, gli orientamenti, ma a partire dai benefici. Esatto. Il Dipartimento Unico è stato un'introduzione che io trovo tuttora molto importante e significativa, perché questo ci ha consentito, da un lato, di, come dire, di definire in maniera più precisa, ad esempio, il percorso di architettura, no? All'interno dell'Ateneo. Dall'altro contribuisce, questo è un percorso che è stato avviato, che non è ancora, diciamo, completato compiutamente, ma contribuisce a creare anche maggiore trasversalità tra questi corsi di studio. Ed è una trasversalità che non può essere, che non può essere in generale e per tutti, però si possono costruire, come dire, delle trasversalità tra architettura arti, tra architettura design, tra architettura pianificazione, con maggior agio, proprio per l'essere all'interno di uno stesso dipartimento. Perché poi, come dire, i confini, i confini dei dipartimenti sono anche dei confini molto solidi e talvolta invalicabili per varie ragioni, anche di carattere proprio, diciamo, organizzativo, burocratico, no? Mentre invece l'aver abbattuto questo steccato è sicuramente un punto di forza che noi abbiamo, un punto di forza e che ci, come dire, consente di andare in quella direzione. Noi abbiamo vissuto da studenti appunto la nascita dei dipartimenti. Io non capivo sta roba per quanto riguarda l'area della progettazione architettonica, teoria e tecnica della progettazione architettonica, teoria e tecnica della progettazione urbana. Poi non si capiva più cos'era composizione e progettazione. C'era questa frammentazione che in effetti è stata superata. Al tempo stesso però ricordo che Manfredo Tafuri, per esempio, era uno dei sostenitori di una idea di dipartimento addirittura interfacoltà. Lui diceva ci vuole un dipartimento di storia che abbia Ca' Foscari, Juav o quant'altro. In quel quadro iniziale, quando era, non si capiva ancora bene l'assetto, io devo dire che ho goduto di questa, di una certa permeabilità dei confini, per cui, per esempio, mi interessava l'arte islamica, l'architettura islamica, andai a seguire storia dell'arte islamica nel seminario di Iranico da Gravar, da uno, dallo specialista, dal massimo specialista. Allora, all'interno della scuola abbiamo superato, con questo dipartimento unico all'interno dello Juav, questa separazione interna. Però ancora c'è difficoltà a trovare dei ponti trasversali con altri corsi di studio che non sono all'interno dello Juav. Ma sai, allora, intanto quei dipartimenti erano molto diversi dagli attuali, eh? I quali tu fai riferimento. C'è stato nel frattempo una riforma, che è quella della cosiddetta legge Gelmini, che ha ridisegnato i dipartimenti, ha eliminato le facoltà e ridisegnato i dipartimenti, anche in funzione, appunto, dell'attività didattica, no? Quindi, questo sicuramente è un cambio molto, molto forte. Io, ci sono delle formule, ci sono delle formule di, come dire, di contaminazione anche tra atenei, ci sono formule che consentono i nostri studenti, ad esempio, di andare a seguire dei corsi anche a Cafoscari, appunto, no? O di seguire i corsi della via U. Al nostro interno, comunque, questa trasversalità, questa trasversalità, che io la vedo come una grande forza, perché pur nel totale rispetto delle discipline e dell'importanza delle discipline, tu fai riferimento a un dipartimento di storia, che è stato, come dire, un vero punto di riferimento, no? E continua anche a esserlo, è la componente, la nostra componente di studi, di storia dell'architettura, ma voglio dire, fai riferimento a un'epoca nel quale, ma un po' come il dipartimento, come era il DAEST, no? Il Dipartimento di Analisi Sociale. Economica e sociale del territorio. Esatto, cioè erano dei dipartimenti che erano, come dire, il riferimento rispetto al campo, in questo caso, degli studi urbani, per il paese e anche più del paese, no? Però, tornando all'oggi, io questo, il Dipartimento Unico, tra l'altro, io in questo momento ricopro il ruolo di direttore della sezione di coordinamento della ricerca del Dipartimento Unico, no? Quindi lavoro fianco a fianco con il mio, con il mio, con il direttore alla didattica della sezione di coordinamento della didattica e con il direttore di Dipartimento, no? Quindi lavoriamo insieme e il tema della trasversalità è sicuramente un tema che ci interessa molto, ci tocca da vicino, sul quale abbiamo anche cercato di lavorare e di favorire questo transito. Ripeto, non è facile, non è facile i vincoli dei crediti, ci sono una quantità di vincoli enormi, però... Questi insopportabili perché richiamano un'idea proprio di università-azienda di nuovo, crediti, debiti, cioè sembra anche nel linguaggio una roba... anche il linguaggio è molto cambiato, però ecco, questo è veramente una potenzialità che deriva dalla struttura che ci siamo dati. Io sono abbastanza convinta di questo. Senti, e invece, a parte in generale, ho visto in entrambi i candidati non c'è una volontà di marcare una discontinuità netta con il passato, però nel tuo programma ho visto un'introduzione dell'utilità di una serie di aggiornamenti, non chiamiamoli correzioni di rotta, ma insomma aggiornamenti dell'orientamento. Andiamo su quelli che sono gli aspetti caratterizzanti, diciamo, il tuo, che sarebbero caratterizzanti il tuo eventuale mandato. Quali sono gli elementi di novità? Sì, ma allora, io in realtà la parola discontinuità la uso e l'ho usata anche nel corso della presentazione del programma, no? Ovviamente, in questi anni, come ti dicevo prima, ho ricoperto anche dei ruoli, per cui più che mi interessa usare la parola discontinuità, ovviamente, ma mi interessa anche usare la parola progetto, no? Cioè io credo che un rettore o rettrice che si candida ha un mandato lungo, tieni conto che il mandato del rettore è un mandato di sei anni, e quindi necessariamente si deve mettere in campo un progetto nuovo con, ovviamente, le giuste, anche i giusti riferimenti e la giusta continuità rispetto a quelle che sono le azioni che sono state condotte e che si stanno portando avanti, che non hanno raggiunto un compimento pieno e delle quali chiunque sia dovrà farsi carico, no? Certamente, quelle componenti, naturalmente il programma, il progetto, a cui tutti inseriti, ha degli obiettivi a breve, medio e lungo termine. Quelli a breve, certamente, avranno un rapporto con quelli già in atto. E poi, man mano, però, probabilmente, l'alveo di questo corso prenderà una via anche con la sua autonomia. Assolutamente sì. Cioè, io, quello che ci tengo a sottolineare è che la discontinuità deve essere in funzione della nostra capacità di liberare energie. Io ci ho tenuto molto a sottolineare questa questione, sia nel programma che nella presentazione che ho fatto, no? Cioè, il fatto che l'Ateneo abbia bisogno, in tutte le sue componenti, non sto parlando solo dei docenti, eh, in tutte le sue componenti di liberare energie, che sono energie fatte di... che hanno tante forme. Sono fatte di conoscenza, sono fatte di creatività, di professionalità, sono fatte anche di desideri, sono fatte di reti e di relazioni che sono state costruite nel corso degli anni, perché questo è importante, secondo me, proprio... intanto perché siamo un piccolo Ateneo, molto polarizzato su alcune questioni, con delle grandissime professionalità interne che devono, come dire, esplicitarsi in maniera piena. Allora, questo ci può, come dire, far tornare veramente ad essere un grande punto di riferimento. Non che non lo siamo adesso, eh, però anche rispetto ai riferimenti che tu facevi prima, no? Il mondo è cambiato, il mondo è cambiato, è cambiato l'università, però, ecco, eh, tornare, come dire, ad essere un faro. Questo, questo secondo me è un, un impegno che io, che io voglio prendermi, no? Cioè, tornare ad essere un riferimento per tutti e quindi anche avere un po' il coraggio e l'audacia di andare in quella direzione. Tornare ad essere dei protagonisti, dei veri protagonisti. Allora, l'università, se mi permetti, un po' questo ruolo lo ha perso, per tante ragioni, eh, non solo per responsabilità dell'università, ma proprio perché è cambiato il mondo, è cambiato il sistema delle relazioni, è cambiato, però è cambiato molto anche il nostro stare all'interno delle cose, il nostro stare nel mondo, no? Allora, quello mi sembra, mi sembra che sia un punto, eh, sul quale lavorare, un punto anche di debolezza, se vogliamo, no? Cioè, essere un riferimento, eh, culturale, essere un riferimento culturale all'interno della città, ma all'interno, voglio dire, noi siamo un'università che sta in questa città, ma siamo un'università che sta nel mondo, no? Anche perché stiamo a Venezia, ma l'università sta nel mondo per, 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 per sua, eh, per sua, per suo statuto, per sua, per sua mission, no? E questo secondo me è un punto importante, questo del, dell'essere, ripeto, protagonisti, e per esserlo però dobbiamo veramente dare spazio a tutti e dare spazio a tutte le energie che abbiamo all'interno di U.A.V. E non solo. Cioè, eh, tu sei, eh, innanzitutto per la disciplina che, eh, nella quale sei, eh, stata formata e che insegni l'urbanistica, no? Il luogo, sia dei conflitti, ma anche del dialogo, il teatro della, della città e dell'evoluzione della, della comunità. Eh, peraltro, tu hai fatto anche, negli anni scorsi, una serie di, eh, studi, di approfondimenti sulla realtà veneziana. Mi piace, eh, citare una, una, un pensiero di Yanis Xenakis, musicista, ma ingegnere, scappa dai Greci, va dalle Corbusier, eccetera, e lui diceva, c'è una cosa che mi piace moltissimo, il dia a due maniera, no, lo dico in italiano, ci sono due modi per fare la differenza. Uno è fare le cose, l'altro è analizzarle. Ma per me, la migliore analisi è fare le cose. È bellissima, eh? Le trovo bellissime. Allora, tornando alle tue analisi, tu hai fatto prima l'approfondimento del quadro delle politiche per la casa e del patrimonio residenziale, anche trascurato, abbandonato, non valorizzato, all'interno della città. Poi hai studiato anche i magazzini, gli spazi di produzione, eccetera, poi anche gli spazi pubblici, per cui hai una visione di quello che sono anche alcuni noti, nodi critici determinanti di questa città. Come lo Juave, in che modo può valorizzare il risultato di queste analisi per fare di Venezia il faro del mondo? Questo è un film che hanno presentato, che è stato presentato la settimana scorsa a Palazzo Grassi, di questa associazione Sumus, che propone di fare di Venezia il laboratorio del terzo millennio. Ecco, come può l'università incidere su queste dinamiche, rilanciando quella cultura del progetto a cui tu facevi riferimento, che è strettamente legata alla cultura politica, entrambe oggi decisamente in crisi, dato che prevale lo scontro rispetto anche al dialogo e alla sintesi anche tra posizioni diverse? Ma guarda, sì, io come sai insegno analisi urbana e territoriale e da diversi anni concentro le mie attività didattiche e anche un po' di ricerca sul centro storico, ma direi sul comune in generale. Sono analisi che ovviamente sono letture, ma sono anche letture, interpretazioni e anche spunti per l'azione di progetto, l'azione di progetto che rispetto a quello di cui io mi occupo è l'azione delle politiche, quindi quali possono essere le politiche che nascono, che possono essere supportate da analisi di questo tipo. Non c'è un primo o un dopo in questo, ma c'è un durante. Le azioni si alimentano e le letture che tu fai non sono letture di per sé, ma sono sempre delle letture che sono finalizzate anche a un obiettivo, a un'azione che vuoi intraprendere. Questo perlomeno è quello che io faccio. Mi sono occupata, hai ragione, mi sono occupata di casa, mi sono occupata di casa pubblica, mi sono occupata di abbandono, di commercio, mi sono occupata molto di commercio. Quest'anno con i miei studenti abbiamo lavorato sull'impatto del Covid sul sistema del commercio e quindi su come si è precipitato il Covid nella città e in un settore tra l'altro molto importante, per la città che si è trasformato profondamente nel corso degli ultimi dieci anni anche in virtù di quel turismo al quale facevi riferimento all'inizio e quindi di questa trasformazione, cioè il commercio è la cartina di tornasole un po', di quello che è la trasformazione che la città ha subito. Tutto questo, ma penso anche a altre attività che vengono svolte da altri colleghi che lavorano sempre sul tessuto urbano di questa città, questo ci fa essere sicuramente o meglio, ci dà la possibilità, abbiamo la potenzialità per diventare veramente un laboratorio urbano, un osservatorio sulla città, mettere insieme tutto questo significa riuscire a dare alla città stessa, non che non lo diamo, cioè se io penso a quelle che sono le mie relazioni con il mondo associativo, ad esempio, di questa città, che sa che io mi occupo di queste cose, mi chiede, mi chiede costantemente, chiede costantemente che cosa ho fatto, che cosa sto facendo, se ho dei risultati e io sono sempre molto disponibile in questo, perché penso che il nostro ruolo sia anche questo, quello di essere a servizio anche della città nella quale stiamo, nella quale operiamo. Quindi questo, e poi di per sé, Venezia è già un laboratorio, Venezia è già un laboratorio urbano, importante, è un microcosmo che dà spazio ad altri mondi, no? Questo essere, Venezia è una città mondiale, una città mondiale non solo perché tutti ci vogliono venire, ma perché riesce, come dire, a mettere in campo una serie di riflessioni sull'urbano che sono già qui nel nostro caso, cioè, uno così, apro una parentesi, la città dei 15 minuti, noi ce l'abbiamo già la città dei 15 minuti, no? Veniteci a studiare, se volete, ecco, l'azione nella pratica, no? L'analisi nella pratica, veniteci a studiare, guardate com'è, com'è questo luogo, no? Guardate qual è l'uso che dello spazio pubblico viene fatto in questa città, di una potenza enorme e che trovi rarissimamente, trovi in Italia sicuramente, trovi nella città europea, la città europea ha questa matrice, ma, voglio dire, qui è all'ennesima potenza, no? Da quello che dici in più consente di fare un passaggio ulteriore, tu parlavi, hai ribadito più volte che una città del mondo, contemporaneamente la città dei 15 minuti dimostra le potenzialità locali, della località, quindi località, minimi problemi della località, massimi sistemi della globalità. Per questo, Venezia è proprio il luogo deputato per accreditarsi come laboratorio urbanistico, sociale, architettonico, per la laguna e tutto. Assolutamente. Volevo chiederti, però, c'è un'espulsione degli abitanti dalla città. Poi parliamo degli spazi pubblici, c'è un'espulsione degli abitanti della città, ma non è una dinamica soltanto della città insulare, ma è anche delle città di terraferma, anche dal punto di vista urbanistico, c'è stata un'evoluzione dell'idea di Venezia. Prima si considerava quasi la città insulare essere il centro storico di tutto il resto del comune. Poi si è riconosciuto anche con l'ultimo piano questa idea di città bipolare. Oggi, in realtà, si riconosce che è una città policentrica, perché Marghera ha una sua identità, Mestre ha una sua identità, Favaro o Zellarino cominciano a sviluppare delle loro identità con dei centri e proprio in questa dimensione policentrica si può consolidare e sviluppare la città di vicinato all'interno di una cornice più grande. Quello che ti chiederei è un ragionamento di nuovo andiamo dal dettaglio all'inquadramento da queste realtà delle singole città a quella invece della città metropolitana che oggi politicamente è un'incompiuta. Sembra io continuo a strapparmi i capelli perché continuo a vedere una opportunità di governo del territorio sterilizzarsi sterilizzarsi in in una conferenza di servizi in cui siedono una serie di sindaci portatori degli interessi locali ma non si riesce a governare un territorio vasto come potrebbe essere questo di di Venezia cosa ne dici? Scusami ho detto ho messo tante cose forse troppe ho preso degli appunti vediamo se mi ricordo tutto allora ma sicuramente allora intanto le dinamiche che tu descrivi sono delle dinamiche condivise sostanzialmente da tutti i centri storici no? Cioè questi processi di espulsione di certo in questa città sono diversi perché? Perché l'intensità è stata molto maggiore l'intensità con la quale anche dal punto di vista proprio quantitativo è come dire un dato enorme enorme proprio dal punto di vista della quantità ovviamente sono fenomeni che hanno delle ragioni cioè perché la gente se n'è andata per delle ragioni oggettive anche di difficoltà di continuare a vivere all'interno di un centro storico di prossimità ai luoghi di lavoro di maggiori servizi che per un certo periodo come dire chiamiamole le periferie anche se non è un concetto che esprime compiutamente quello che è il contesto territoriale ma non solo del Veneto e quindi i fenomeni di espulsione hanno delle ragioni profonde io credo che però all'oggi e qui c'è anche un interesse molto rinnovato rispetto a quelle che sono i centri storici gli studi sui centri storici la riflessione che si fa sul centro storico io credo che assuma una potenzialità enorme all'oggi come possibilità di nuovi spazi dell'abitare anche per una nuova abitabilità la necessità di costruire e di abitare in luoghi che siano luoghi molto serviti che siano luoghi della pedonalizzazione cioè se pensi alla spinta di alcune città europee in questa direzione beh la forma come dire la forma urbana incide certo tu puoi intervenire puoi riprogettare degli spazi che erano degli spazi nei quali ci potevi fruibili solo esclusivamente attraverso un mezzo di mobilità di un'automobile una mobilità individuale ma sì alcune città lo hanno anche fatto però voglio dire il centro storico che è la nostra come dire matrice matrice della città europea alla quale facevo riferimento prima può esprimere delle potenzialità enormi certo non è che puoi andare a ripigliare chi se n'è andato e riportarlo in città però ci sono io credo nuove popolazioni se così possiamo chiamarle che possono decidere di venire a vivere qui o che possono rimanere qui allora una città come Venezia e la presenza ad esempio di due di due importanti università ma anche di altri due importanti università nel centro storico ma insomma anche nella nella parte di terraferma centri studi centri di ricerca eccetera può attirare una popolazione anche una popolazione giovane perché questo è un altro aspetto cioè la popolazione se n'è andata ma anche la popolazione si è profondamente invecchiata all'interno di questo e degli altri centri storici invece tu immetti della popolazione giovane gli studenti hanno anche questa grandissima capacità gli studenti i ricercatori gli assegnisti i dottorandi hanno questa grandissima offrono questa grandissima opportunità al contesto urbano che è quello di portare nuova popolazione che possa rimanere qui certo l'università può fare da questo punto di vista può avere un ruolo molto importante dopodiché bisogna trattenerla questa 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 mole di di nuova potenziale popolazione bisogna fare in modo che ci siano come dire fronti di di lavoro sostanzialmente motivazioni che siano legate certamente lo studio certamente il lavoro scientifico certamente lavorare all'interno delle istituzioni pubbliche e private che in questa città stanno ma anche aprire fronti di lavoro e qui certo il turismo che non va demonizzato è sicuramente un pezzo importante con anche tutte però le difficoltà che genera e questo lo sappiamo bene visto che sia tu che io viviamo in questa città e ci viviamo da molto tempo ma che è il grande laboratorio che può essere fornito dalle attività culturali cioè lavorare sulla cultura questo questo per quanto riguarda le funzioni e sono assolutamente d'accordo con quello che dici c'è però bisogno di una sinergia in una prospettiva condivisa e in una visione cioè la domanda che mi viene da farti perché possiamo attrarre secondo me Venezia attrae però quando non si avviano politiche per la casa e qua è una cosa che vorrei chiederti sulla base delle cose che ci sono margini per poter veramente realizzare delle politiche per la residenzialità non solo dei residenti ma anche per gli altri e arginare questa deriva degli alberghi al tempo stesso e di oggi io sono rimasto colpito non so se hai sentito questa cosa del parking San Marco il parcheggio San Marco in piazza di Roma ha chiesto agli abbonati cioè io ho già un abbonamento e mi ha detto senti scusa giugno luglio agosto e settembre dovessi portare via la macchina perché raffitto ai turisti che funziona allora oppure paghi 120 euro in più al mese con una condazione contrattuale che io ho già con un rapporto contrattuale che io ho già in essere dicendomi comunque noi non ti sottraiamo tre mesi ti sospendiamo l'abbonamento e poi lo riprendi dopo guadagnando altri tre mesi cioè se tu baggi la macchina nel frattempo la macchina no peraltro c'è un altro elemento io ho vissuto sia a Mestre che a Venezia da mestrino un mestrino ha diritto a chiedere un posto barca a Venezia un veneziano non ha diritto a parcheggiare l'auto sulle strisce blu a Mestre cioè quando abitavo a Mestre se non hai un garage paghi un canone al comune hai diritto nell'area di residenza a parcheggiare l'auto sulle strisce blu il veneziano non ce l'ha cioè questi qua sono professionisti cioè quella classe di persone attive che lavorano e vivono a Venezia se gli levi la macchina gli massagri cioè gli stai levando stiamo mandandoli via questa è un'istituzione diversa progettata certo ma guarda l'esempio che fai si ricollega a quelli che mi chiedevi prima cioè il fatto che ci debba essere anche un progetto sulla città cioè questa città per chi è allora questo è sicuramente non è in capo all'università questo non è in capo a un rettore o una rettrice però l'università come dire deve anche costruire delle sinergie forti con le istituzioni in primis le istituzioni pubbliche e anche come dire contribuire a costruire fronti di dialogo e costruire anche fronti di riflessione su queste questioni perché appunto se noi vogliamo che questa città viva e viva di persone che qui ci abitano ci vivono e ci ritornino ma non è solo il residente in senso stretto lo dicevi anche tu prima c'è una popolazione temporanea errante molto interessante che fa parte della natura di questa città abitanti a pieno titolo in particolare questa città è per sua natura un porto per sua natura un porto quindi accoglie uno ci rimane poi va via poi forse ritorna poi si stabilisce definitivamente questo vabbè è delle città in generale ma sicuramente qui è una una un carattere molto forte un carattere molto forte allora qui serve ripeto un progetto e serve anche secondo me la collaborazione tra le istituzioni che ci sia una collaborazione tra le istituzioni e le università sono degli attori sociali rilevantissimi all'interno di un contesto urbano rilevantissimi non solo per quella massa di popolazione di cui parlavo prima ma rilevantissimi perché sono luoghi della conoscenza del sapere della trasmissione della conoscenza cioè noi dobbiamo essere usati noi come università dobbiamo essere usati dobbiamo essere usati dobbiamo continuare o tornare a svolgere questo ruolo che è un ruolo formativo la nostra mission quella è intoccabile ma non dobbiamo trascurare quella che è la nostra capacità anche di poter incidere rispetto proprio alla nostra conoscenza quella che è la nostra riflessione sui contesti che non è solo su Venezia ovviamente però parlando specificatamente di Venezia c'è moltissimo tu parlavi di me ma guarda di colleghi che si occupano di Venezia ce ne sono tanti e da diversi punti di vista con diverse specialità con diversi riferimenti a diversi campi del sapere però continuiamo il mio rammarico è che per esempio questo anno e mezzo di covid è stata un'occasione straordinaria di riflettere di ripensare alla città di trovare delle nuove nuove azioni dei nuovi indirizzi delle nuove linee invece sembra che non aspettiamo altro che di ritornare al passato sembra che non abbiamo imparato la lezione che non è una lezione nel senso ti do una lezione punitiva è una lezione come opportunità per ripensare un futuro e una visione per questa comunità che ripeto non è solo quello di Venezia ma è quello della grande area metropolitana della città metropolitana poi c'è il tema dell'area metropolitana Padova Treviso Padova Treviso Venezia la Patreve che potrebbe diventare una conferenza di servizi ma c'è una città metropolitana che già dovrebbe essere già una realtà di governo invece no continuiamo a riguardare a delle strade uniche che rischiano di mandarci a sbattere perché sono senza uscita prima era la monocultura industriale poi la monocultura turistica può essere che non riusciamo a pensare a una visione differenziata un po' come quello che dicevi tu cioè accogliere delle nuove funzioni che possono entrare nel corpo sociale della città Sì e anche individuare le alternative perché allo stato attuale non è che il covid ha messo in campo un'alternativa facevi l'esempio del parking non si è formulata un'alternativa diversa in questo anno e mezzo ma siamo siamo dico genericamente siamo poi ovviamente sto parlando degli operatori del settore siamo tutti rimasti ad aspettare che tornasse il turismo che tornasse il turismo non solo per l'imprenditoria privata ma anche per il sistema museale per dire voglio dire è veramente molto importante dal punto di vista della struttura economica di questa città allora però ha degli impatti perché il turismo il turismo ha degli impatti molto forti sia sulle trasformazioni prima facevo il riferimento al commercio che è veramente la cartina di tornasole di come di come di come si è trasformata la città in funzione del turismo basta guardare il commercio e e anche degli impatti cioè la 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 congestione la quantità di rifiuti che vengono prodotti insomma ci sono diverse come dire l'impatto sul sistema dell'abitazione dell'abitabilità no e quindi la come dire la messa l'utilizzo di questo specifico settore di tutta una quantità di appartamenti case eccetera che però che però attenzione sarebbero sfitte sarebbero sfitte no cioè quindi il lavoro che c'è da fare non è semplicemente dire togliamo da lì perché non è che togliamo da lì e ritornano tutti a vivere a Venezia purtroppo ci piacerebbe tanto te a me a tantissimi di noi no ma non è questo cioè la il fenomeno va guardato veramente dalle sue radici no e l'alternativa l'alternativa qual è per questo io parlo di cultura perché lì c'è un fronte di lavoro abbiamo istituzioni culturali abbiamo musei abbiamo le università cioè c'è un fronte come dire da esplorare e da mettere a valore molto molto forte questo secondo me può essere una può essere un'alternativa però l'alternativa ci deve essere perché altrimenti quello che è rimasto chiuso un anno e mezzo ma ti pare che non che non affitta casa sua al turista è inevitabile che sia così no cioè voglio dire è proprio un meccanismo di sopravvivenza anche abbiamo visto gli effetti negativissimi di questa pandemia no allora poi ripeto alcune dinamiche sono come dire dinamiche che vanno assolutamente a questo esempio che facevi del parking non lo sapevo oggi è uscito un appello della rivista Italy per raccogliere delle firme per questa cosa non lo sapevo veramente la dice tutta no su 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 quello che sta succedendo non voglio eludere la tua domanda sulla sull'opportunità di governo della città metropolitana io penso che quello sia una scala assolutamente fondamentale anche per gestire il turismo anche per gestire i flussi turistici che non possono secondo me in maniera fruttuosa essere gestiti solo alla scala urbana la gestione del turismo è una cosa molto complessa vabbè qui ci sono esperti che ci insegnano moltissimo su questo non basta neanche una gestione a quella scala lì però sicuramente sicuramente la scala metropolitana è una scala adeguata perché allora lì puoi come dire anche fare quelle operazioni di diversificazione puoi fare delle operazioni anche di valorizzazione del turismo ad una scala diversa rispetto a quella che è la scala come dire della città e del centro storico ben sapendo che tutto il mondo vuol venire in questa città quindi anche questo come dire impatta in un qualche modo però sicuramente quello è il livello giusto della gestione non funziona la scala metropolitana non funziona per diverse ragioni in primis perché perché è stata un'operazione come dire molto top down e quindi poi è un ente di secondo livello quindi è molto complicato farlo funzionare guarda che non funziona anche da altre parti anche in luoghi dove magari c'è stata una tradizione fortissima e di una presenza molto forte delle province cioè non è così semplice farla funzionare però sicuramente concordo con te quello sarebbe il livello adeguato quello sarebbe il livello adeguato io ci pensavo si potrebbe coniugare la riflessione sulla città policentrica sulla città dei 15 minuti con quella città metropolitana cioè una delle condizioni per passare al primo livello la città metropolitana è quella che il comune di Venezia si autodivida si autoarticoli forse si potrebbe pensare a riconoscere queste identità territoriali quasi a me veniva da pensare quasi trasformare le municipalità tutte o in parte in comuni e rilanciare invece una città metropolitana come nuovo centro del governo a grande scala non so se la mia è una fantapolitica nel senso che ho chiesto anche a vari esponenti politici e mi dicono che non è all'ordine del giorno un'ipotesi del genere tieni conto che noi stiamo andando più verso le unioni dei comuni che non la divisione dei comuni anche se poi avvengono anche queste no? no ma l'alternativa è cambiare invece il decreto legge consentendo di passare dal primo livello con invece meccanismi di unione ma neanche quello è nell'agenda politica no però però tu hai tu hai una moltiplicazione dei costi secondo me cioè le unioni dei comuni perché le fai? perché ci sono delle economie di scala che ovviamente vengono messe in campo no? e anche di gestione di alcuni servizi di facilitazione in questo senso dopodiché i contesti ai quali tu fai riferimento hanno anche una loro come dire hanno acquisito anche una loro una loro forza e una loro specificità no? rispetto a parlavi di un sistema quasi policentrico no? ricordo io non so se userei questa parola nel caso di maestre Marghera Favaro Zellarino eccetera non so se userei questo termine no? però sicuramente sono riconoscibili come ambiti suburbani specifici no? questo sì e allora lì devi lavorare potenziando di servizi cioè lavorando anche veramente nel micro no? cioè c'è una gestione macro e c'è un intervento alla scala micro puntuale che valorizzi anche quei luoghi no? e che vada nella direzione di rendere tutti degli spazi estremamente abitabili estremamente vivibili no? questo questo sì il problema è che si è continuato a fare un tiro e molla si è concesso una serie di deleghe alle municipalità si sono concesse una serie di competenze anche sui lavori pubblici la manutenzione delle strade locali alcune cose poi si sono ritirati oggi siamo arrivati al punto in cui sono state sterilizzate e private del tutto delle deleghe cioè qui c'è un problema di cultura politica ora sì sì di cultura politica di gestione io direi governo di gestione nel senso che questi organismi sono organismi che possono svolgere più più ruoli no? perché possono svolgere un ruolo dal lato di rappresentanza di quei luoghi che non è poco e dall'altro possono essere usati proprio per una qualificazione un intervento attivo no? su quegli spazi che magari l'amministrazione diciamo più più centrale anche è più distante più distante in senso di di lontananza non di distanza voluta no? e questo questo potrebbe essere però all'interno di un organismo più ampio che gestisce altre cose cioè il turismo il turismo alla scala metropolitana e la gestione del turismo alla scala metropolitana sarebbe una non dico che sarebbe la soluzione non lo so però penso che sarebbe una grande opportunità sperimentare forme di governo quella scala lì ma anche proprio nella dimensione del sfruttare questa risorsa per un territorio più ampio riuscire a sfruttare questa risorsa per un territorio più ampio che tra l'altro ha anche dei valori come dire ambientali storico culturali molto rilevanti no? e questo potrebbe essere interessante per tutto il contesto sì ci vuole sì ci vuole una sinergia qui depongo grandi pongo grandi speranze nei confronti della della università come strumento di pungolo io ho visto questo nuovo quartiere degli alberghi a Mestre mentre c'è l'Anda questa specie di ostello che è proprio rivolto verso la città e ha una serie di relazioni con il centro mestrino manda questi studenti lì il resto degli alberghi invece è diventato una sorta di enclave con un corridoio privilegiato che li porta direttamente al binario ferroviario per collegarli a Venezia ma è completamente separato addirittura lì c'è un passaggio sotto il cavalcavia che potrebbe essere una porta per entrare verso le M9 verso Mestre ed è abbandonato è uno spazio completamente inagibile ecco se forse se ricominciamo a rimettere assieme i pezzi di questo mosaico del territorio forse possiamo costruire una nuova Venezia assolutamente sì io credo che noi come università possiamo fare molto possiamo fare molto e ripeto dobbiamo anche essere usati dobbiamo essere usati ci dobbiamo noi stessi dobbiamo essere come dire più proattivi uscire di più uscire di più sul territorio sulla città però anche essere usati per le nostre competenze per le nostre capacità per per il sapere che abbiamo accumulato questo questo è un ruolo cioè questo ruolo passami l'espressione di advocacy è un un ruolo che che io rivendico ma che anche sento di di sento che possiamo dare sento che possiamo dare e allora su questa affermazione di speranza io mi fermerei per non ricominciare anche perché ti ho portato un po' fuoristrada per certi versi ma non fuoristrada rispetto alla conclusione che hai appena fatto perché abbiamo finito per parlare del territorio e quindi della visione che del territorio si ha grazie all'analisi e al lavoro sul piano didattico e della ricerca certo quando presenterò i lavori dei miei studenti ti invito assolutamente vengo con piacere ti invito va bene vengo con piacere senti grazie molte e auguri per questa avventura che comunque vada mi sembra un'occasione di confronto e di crescita per senza dubbio per lo you assolutamente sì condivido grazie a te di questa grazie tante grazie ciao ciao